Benvenuti nella nostra scuola, l'Istituto Gobetti Volta di Bagnarripoli. La nostra scuola è una scuola molto grande, consta di oltre 1.700 alunni, ma vi offre anche numerosi indirizzi di studio. Abbiamo il liceo scientifico, il liceo scientifico scienze applicate, il liceo scientifico sportivo, il liceo linguistico che ha anche l'opzione italo-inglese che vi permetterà di poter prendere un titolo che potrete spendere in futuro sia nelle università straniere ma anche nella vostra vita. E poi abbiamo l'Istituto Tecnico, l'Istituto Tecnico Informatico che vi darà la possibilità di avere anche telecomunicazioni e l'Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing con la sperimentazione e management sportivo. Il nostro istituto è immerso nel verde, abbiamo anche varie strutture, abbiamo un campo di beach volley, abbiamo una pista di atletica, abbiamo tutto quello che serve per fare atletica leggera, salto e lungo, lancio del peso e abbiamo due palestre molto grandi che potranno ospitare tutte le classi che si cimenteranno in scienze motorie e in discipline sportive. Abbiamo quattro laboratori di informatica per sia l'Istituto Informatico ma anche per il liceo e il liceo linguistico. Abbiamo un laboratorio di lingue che stiamo in questo momento ristrutturando e riattrezzando. La nostra scuola quindi è molto grande e offre tutte le attrezzature didattiche necessarie. In tutte le classi abbiamo l'IM e computer e quindi i nostri ragazzi sono messi nelle condizioni migliori per poter apprendere, divertirsi e studiare. Gli studenti che arrivano da noi trovano un grande punto di accoglienza e di supporto alla persona attraverso il nostro sportello d'ascolto di supporto psicologico per studenti, docenti e famiglie e anche di supporto scolastico attraverso le opportunità di recupero e di SOS che gli studenti stessi possono richiedere ai docenti. Trovano una grande opportunità formativa, trovano anche un ambiente tecnologicamente avanzato che permette loro di frequentare le lezioni didattiche a distanza seguendole direttamente qui da scuola perché tutta la scuola è dotata di telecamere e di cablaggio quindi di possibilità di fare didattica in maniera sincrona. Il nostro liceo scientifico accoglie tutte le possibili declinazioni del liceo scientifico quindi abbiamo il liceo scientifico ordinario, il liceo scientifico delle scienze applicate e il liceo scientifico sportivo. In particolare il liceo scientifico ordinario può avere un potenziamento di astronomia o un potenziamento di arte e architettura. Ciò che distingue la nostra scuola è l'ampia progettualità quindi abbiamo dei progetti a carattere scientifico per esempio il progetto di biotecnologie oppure il progetto di biologia a curvatura biomedica. Abbiamo anche dei progetti che riguardano le materie umanistiche per esempio tre cantiche per 700 anni che intende celebrare Dante in questa ricorrenza dantesca. Ma se dovessi trovare la parola chiave di questo liceo direi umanità. umanità intesa nel senso in cui la intendevano gli antichi quindi interesse per l'uomo, interesse per i piccoli uomini che si affacciano alla scuola superiore entrando nel nostro liceo e i nostri studenti e interesse per l'ampia e varia umanità che sta nella società con cui i ragazzi si dovranno confrontare una volta terminato il percorso di studi. Il liceo linguistico dell'istituto Gobetti Volta è nato nel 1984 ed è stato il primo liceo statale di Firenze. Accanto all'inglese si studia spagnolo, francese, tedesco e russo. Siamo convinti che studiare una lingua non è soltanto studiarla sui libri e al chiuso di una classe ma è uscire, confrontarsi con dei coltanei e vivere nel paese dove si parla quella lingua. Per questo abbiamo costruito negli anni una rete di partenariati con scuole in Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Olanda, Belgio ma anche la Russia e anche l'America con la quale facciamo regolarmente gli scambi. La scuola di Chicago è la Oak Park River Forest High School dove ha studiato Hemingway. Abbiamo un indirizzo Cambridge, siamo International School e concediamo ai nostri studenti di avere diplomi IGCSE riconosciuti in tutto il mondo. E proprio questa è la nostra mission, vogliamo fare dei nostri studenti dei cittadini del mondo. L'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing si avvale di due potenziamenti. Il primo è il potenziamento in management sportivo e il secondo relazione internazionale. Il primo potenziamento si basa soprattutto sulle materie di indirizzo che sono economia aziendale, diritto e scienze motorie. Il secondo invece è il potenziamento in relazione internazionale. Le materie di indirizzo saranno relazioni internazionali, diritto e tre lingue straniere. Inoltre i ragazzi avranno la possibilità di fare stage nelle aziende sia in Italia che all'estero. Il nostro indirizzo informatica e telecomunicazioni risponde pienamente alle esigenze del mondo contemporaneo. Il nostro indirizzo mira a formare personale altamente specializzato in grado di operare sia a livello di software che a livello di hardware per programmare, gestire sistemi e reti informatiche e di telecomunicazioni. Prospettive per il futuro si gioca facile. Il diploma è immediatamente spendibile e con successo nel campo del lavoro e posso dirvi che nessuno dei nostri ex studenti è disoccupato. Niente, vieta naturalmente a chi vuole di proseguire con studi universitari per i quali la preparazione è assolutamente ottimale. Certo è necessario studiare, lo studio è fondamentale, lo studio di ogni disciplina perché come diceva il nostro buon Dante solo chi conosce possiede gli strumenti per poter scegliere, scegliere liberamente, in maniera autonoma ed è questo l'augurio che io vi faccio perché siate protagonisti del vostro futuro. Perché scegliere l'indirizzo sportivo del liceo scientifico Cubetti Volta? Beh, innanzitutto per l'entusiasmo, per la proiezione nel futuro che i nostri studenti possono coltivare fin dal momento in cui entrano in questo liceo. Abbiamo a disposizione strutture importanti, 34 moduli sportivi nel corso dei 5 anni, sport di terra, di acqua, di cielo anche, facciamo sport con le ruote, senza ruote, in discesa e in salita, facciamo sport in ogni maniera e tutti questi vengono supportati da una didattica disciplinare estesa, completa, dove l'indirizzo scientifico ovviamente porta a compimento quei programmi fondamentali per la formazione scientifica e umanistica dello studente. Un percorso lunghissimo, un percorso che inizia già dagli Open Day, quando i ragazzi arrivano qui carichi di aspettative, di curiosità per scoprire questa nuova avventura formativa che li attende e che poi inizia subito con le classi prime e poi le seconde, ma non si esaurisce poi con la quinta e con il diploma perché l'esperienza continua anche dopo, perché quello che viene trasmesso sia da un punto di vista sportivo ma anche formativo continua tutta la vita. Bene ragazzi, speriamo di avervi dato un'idea di quella che è la nostra scuola e quindi vi aspettiamo per offrirvi i nostri indirizzi formativi nei quali potrete cimentarvi e trovare risposte alla vostra voglia di studiare e di apprendere. Non solo, ma alla vostra voglia di stare insieme, alla vostra voglia di divertirvi, a volte forse anche un po' annoiarvi, ma questo insomma fa parte della scuola e state sicuri che noi cercheremo di fare il meglio per darvi le migliori opportunità possibili.